Siamo qui oggi con il Pullman Azzurro, uno dei due Pullman Azzurri della Polizia Stradale. Giriamo l'Italia in queste manifestazioni dove incontriamo piccoli e grandi, ma soprattutto i piccoli, i giovani guidatori di domani, devono essere informati e formati sulle regole della strada. Quindi oggi parliamo di biciclette, ma anche di motorini, e con i grandi parliamo anche di guida in stato di ebrezza. Una formazione a tutto tondo per, speriamo, una circolazione più sicura per tutti. Ogni occasione è buona, crediamo, per parlare di questi argomenti. Poi il triathlon si presta particolarmente perché si svolge per due terzi sulla strada, sia di corsa ma soprattutto in bicicletta. E allora interveniamo parlando del mezzo bicicletta, che quando è in gara è una cosa, ma quando è su strada di tutti i giorni, beh, anche la bicicletta è un mezzo, quindi deve avere i suoi dispositivi e deve essere condotta, secondo anche la bicicletta, secondo le regole della strada. Il triathlon è uno sport fantastico, completo, è a 360 gradi. È bello il clima, è bello il clima di questo tifo, tutto pro e certo non contro. Questo è proprio bello. Come in ogni manifestazione, la polizia stradale è sempre a fianco degli atleti e per la loro sicurezza, insomma. Molto bravi. Non è una disciplina facile, però vedo molto impegno e molta disciplina da parte loro. Bravi. Grazie. 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 Grazie.